Bene, abbiamo avvicinato la postazione di Luca Maffei, un protagonista della Valdera Pontederese-Colmice. T'abbiamo già visto sul podio del campionato italiano a squadre a Corbara e sei protagonista anche qui a Ostellato. Com'è la tua giornata di pesca, Luca? Ma per adesso ci stiamo divertendo, il galleggiante va giù, quindi... Buon segno! Per ora sì! Sei capitato proprio nella zona detta gli animali, come riferimento, come l'hai impostata la pesca in questo tratto di canale? Ma senti, noi l'abbiamo impostata a 11 metri, con un po' di pastura all'inizio e qualche pallina di fuille in colla, perché è un tratto che qui di solito non ci pescano mai, perché abbiamo visto le piazzole che sono state fatte da poco, quindi si sperava di prendere qualcosa, invece si prende un po' di pesce. Quindi un canale promosso a pieni voti? Sì, sì, però adesso sì, dai, il galleggiante va giù, tante placchettine piccole, però l'importante è che vada giù. Bene, Italian Master ha Ostellato dopo due anni ad Adria, un canale che tu adori, visto i risultati degli ultimi anni, un bel comunque risultato anche in questo canale, insomma. Questa la stagione? Sì, dai, un bel risultato anche qui, è andata tutta bene quest'anno, ci siamo divertiti. Dai, allora in bocca al lupo per il proseguio e ci vediamo sicuramente nelle prossime occasioni. Ciao Luca! Grazie, ciao! Ciao, ciao!